18 febbraio in sicilia siamo su una temperatura di 15 16 gradi in questo sole che batte forte e lì come possiamo vedere c'è il mare il mare siciliano il mare di sant'aga da militello in questo momento questa è la villa falcone borsellino una villa molto conosciuta per chi è dell'interland ma non solo questo è lo spettacolo della sicilia una terra incredibilmente bella tanto amata a volte dimenticata questo è ciò che si può vedere da questa parte del lungomare di sant'aga da militello in fondo le isole in fondo capodorlando ricordiamo che siamo fatti in fondo questo è un'altra parte dell'uomo e se non è pietra, non è più buon e se non è più buon ci sono fatti in fondo e se non è più buon in fondo a un'altra parte un'altra parte da un'altra parte un'altra parte in fondo Ricordiamo che siamo al 18 febbraio 2021. Villa Falcone-Borsellino-Santa Catamivitello, guardate che spettacolo, cielo azzurro, verde. Alla nostra sinistra è il mare, tante volte non serve andare lontano da dove ci si trova perché hai già tutto, hai tutto quello che la natura può offrirti, hai tutta la consapevolezza di vivere in un posto magico e averlo praticamente sotto i piedi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.